Allora adesso andiamo sempre con Giorgio Cabello in un ambiente industriale. Negli anni 70, quando le grandi industrie soprassedevano la classe operaia, ecco che nascevano delle figure deformi. Le grandi industrie, la meccanizzazione, c'era l'uomo che so comeva scoperto questo e nascevano strane figure come quella che Giorgio Cabello si è divertito a portare sul palco con un sacco di chic e fa per sé poco così. Lavoravo in quel divaggio in catena di montaggio e giravo una ramella, sempre una, sempre una. Ed un giorno fu così che mi venne fuori un tic. Lavoravo in quel divaggio ad un nastro di montaggio. La mia testa si girava e il motore accompagnava. Per seguirlo fu così, così che mi venne un altro tic. Non si stavo, non si stavo, non si stavo tanto male con un tic orizzontale. La per colpa d'un reato, lo seguivo in un soffazzo. Per quel nastro fu porciò che il mio tic si copiò, copiò, copiò. Ma cambiato di reparto, è venuto un mezzo infarto. C'era un nastro sempre in piano, ma arrivato con la mano, con la mano. Mi dovrai un po' peggiorato, voglio ti modificarlo. Per poter restare a galla, mi toccò muovere la spalla. E di più, così, 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 è venuto un tic al piede per frenare col pedale. Ero pronto, mi ho messo a... Lavoravo in quel dibagio, e mi dice, ma 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 mi dice. Ma chiamando il direttore, e mi fa, caro signore, con quelli, non ritori, non ritori, non ritori, non ritori. E non vede? Sembra quasi un deficiente. Grazie a tutti.